Leggo per carta carbone una poesia tratta dai padri, l'Adolfi 2012. Tutti mi dicono che sono una donna, è bella e che ho spalle ampie, gambe robuste e di ferro. Cammina da sola, ora. Io non cerco che una mano grande, che mi copra tutta la faccia, non mi faccia invecchiare.